A seguito di vari contatti telefonici intercorsi nei giorni scorsi, ho formalizzato ai vertici dell'ASL la richiesta di attivazione di un punto vaccinale nel nostro comune presso la palestra della Scuola Media di Santa Maria. Lo ha dichiarato il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri in un post su Facebook. Ieri mattina abbiamo effettuato un sopralluogo con il personale del distretto 70 dell'ASL di Salerno per verificare la possibilità della cosa. Nei prossimi giorni provvederemo a perfezionare l'iter e ad allestire il sito individuato. Tale scelta che deriva dalla sinergia istituzionale tra comune di Castellabate e ASL ci consentirà di velocizzare i tempi per la vaccinazione e di evitare disagi negli spostamenti ai cittadini. Dobbiamo fare presto per riappropriarci quanto prima della nostra vita normale.